Scotti Bekovic e Mark Granet sono rispettivamente trottemel e driver di questa incredibile imbarcazione. Un catamarano che partecipa alle competizioni in America, ma che è equipaggiato con una propulsione veramente particolare. Che tipo di imbarcazione è questa? Che motori monta? È un Cat Mystic da 50 piedi col quale noi corriamo in categoria Unlimited Offshore. E questi che motori sono? Abbiamo una coppia di Lightcoming T-53 con turbina, come quelli degli elicotteri, assieme fanno 4.000 cavalli. Quali sono le prestazioni di questa barca? La differenza principale tra un motore a pistoni e questo con turbina a gas è la coppia, che è veramente superiore. A parità di cavalli la coppia e quindi la forza che si trasmette all'elica è molto superiore e questo ci permette velocità elevatissime. Sì, ma quanto veloce. Questa barca può raggiungere le 210 miglia orarie. Quanto è difficile correre a questa velocità e soprattutto gestire tutta questa potenza? Non è semplice gestirla. Lo scorso anno abbiamo stabilito un record per la nostra categoria, alla velocità di 194 miglia, una velocità mai raggiunta prima in gara. Per farti capire, facevamo 100 metri al secondo. Quante competizioni fate all'anno? Ma dipende dalle stagioni. Qua in America la stagione è molto densa di gare, diciamo tra 14 e 18 ogni anno. Cosa pensate delle gare più europee, quelle direttamente sotto l'Uien? Siamo stati a Dubai per la fine dello scorso campionato di Class 1 e devo dirti che il modo in cui fanno le gare è assolutamente fantastico. Chi sono i tuoi amici in Class 1? Ci sono tanti ragazzi fantastici, mi piace Nicola Giorgi, fantastico Matteo Nicolini e poi incredibile il Vittori Team. Non posso dire di avere un preferito, ma di certo posso dire che la professionalità in Class 1 è elevatissima in ogni aspetto. Il rumore dei V12 Lamborghini a lottare contro i V8 è fantastico. e Mike D'Annabella e le grandi V8, ma proprio una battaglia, noi seguiamo tutto il tempo e guardiamo come si riuscano le gare, è assolutamente fantastico. Grazie, ringraziamo Scotti e Mark e questo è il loro Miss Jacob, una delle barche più incredibili e più performanti qua nelle competizioni americane. Grazie. 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 Grazie.